Benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo nella pagina iniziale del sito di Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Questo perché vi voglio spiegare come scaricare l'open beta che sarà disponibile a partire da questa sera, dalle 3 del mattino, di Fusion World. Sappiamo tutti che Fusion World è il nuovo gioco di carte che sarà disponibile a partire dal 23 febbraio e in concomitanza uscirà anche la sua versione digitale. Da questa sera però sarà possibile provarla in anteprima grazie alla sua open beta. Molti di voi mi avete chiesto nel gruppo cosa bisogna fare per scaricare questa applicazione e adesso ve lo mostrerò in pochissimi passi. Prima di cominciare vi invito ad entrare nel nostro gruppo Telegram, un gruppo dedicato esclusivamente al gioco Dragon Ball Super Card Game, dove tutti i giorni metteremo tutte le novità di tutte le uscite di Dragon Ball Super Card Game Master e Fusion World. Abbiamo anche la sezione compravendita per chi volesse vendere le proprie carte e la sezione preordini in collaborazione con il negozio Nekopon Store, un negozio che non tratta solamente giochi di carte collezionabili ma anche articoli inerenti ad anime e manga. Attualmente sul sito sono aperti i preordini della terza espansione di Dragon Ball Super Card Game Fusion World e anche tutti gli starter deck che usciranno in concomitanza. I prezzi del sito sono davvero molto molto convenienti ed in più avrete la possibilità di avere un 5% di sconto grazie al mio codice sconto KIKO5. Quindi detto questo direi di ritornare a noi e vedere come sarà possibile scaricare questa applicazione. Allora, prima di tutto andiamo a vedere i dettagli della beta online. Una beta che ci darà a disposizione un po' di carte degli starter deck e della prima espansione Awakened Pulse. La beta sarà disponibile a partire dalle 3 del mattino del 24 gennaio, quindi da stasera, fino al 28 gennaio, più o meno verso le 9 del mattino. Come partecipare? Sarà molto semplice, basterà avere un ID Bandai, dopodiché scaricare l'applicazione, installarla e giocare tranquillamente. L'applicazione per adesso sarà disponibile solamente su PC, quindi se non siete muniti di un PC oppure avete un Mac, che purtroppo non sarete in grado di scaricare l'applicazione. Probabilmente più avanti rilasceranno delle versioni smartphone e Mac, però per adesso abbiamo solamente la disponibilità sui sistemi operativi di Windows 10 e superiori. Quindi detto questo direi di andare a vedere come scaricare l'applicazione, i passi sono molto semplici. Allora, abbiamo la pagina iniziale del sito che vi lascio in descrizione, dopodiché dobbiamo andare nella sezione digital. Eccoci qua, qua abbiamo la pagina del digital dedicata interamente al digitale. Sulla nostra destra, come vedete, abbiamo una finestra con tutte le informazioni che riguardano il download. Sulla parte bassa troverete il bottleneck per effettuare il login al vostro ID Bandai. Se non avete un ID Bandai, vi basterà semplicemente registrarvi. Dopo che vi sarete registrati, il sito vi rimanderà a questa pagina qua e avrete anche voi questa stessa finestra che ho io in questo momento, dove vediamo che ancora non è disponibile il bottleneck per scaricare l'applicazione. In teoria, dalle 3 del mattino, questa zona sarà accessibile, quindi sarà possibile scaricare direttamente da questo bottleneck. Se non vi compare questa finestra, vi basterà semplicemente andare in fondo alla pagina di digital, nella voce open beta test and pre-registration, poi scendete ad advanced registration campaign ed infine cliccate su here to enter. Una volta cliccato su here to enter, vi chiederà di effettuare il login al vostro ID Bandai Namco. Se non l'avete, come sempre, potrete registrarvi e una volta che vi sarete registrati, vi rimanderà alla stessa pagina che avevamo prima, con la finestrina a destra, dove sarà possibile poi da stasera scaricare l'applicazione. Molto semplici, passaggi davvero molto molto semplici, nulla di complicato. Qua abbiamo delle informazioni riguardo all'applicazione, quindi all'open beta. Una volta che scaricheremo l'applicazione avremo a disposizione 200 gemme. Con queste 200 gemme probabilmente potremo acquistare delle bustine digitali. Ancora non hanno detto nulla riguardo, ma suppongo che sia quello l'obiettivo. Se scendiamo giù vediamo che le gemme potrebbero aumentare in base alle numeri di reaction che noi metteremo in uno dei loro post su Twitch. Come vedete qua abbiamo 50 gemme aggiuntive se raggiungiamo i 5000 like, diciamo. 100 se ne raggiungiamo 10.000. Allora, il post lo trovate qua su See the Designated Post Here. Clicchiamo su questo link che ci rimanda su Twitter e su questo post dovremo ripostare e mettere mi piace. Attualmente ci sono solamente 3000 mi piace, quindi finché non arriveremo a 5000 le gemme che ci daranno saranno soltanto 200. Una volta superati i 5000 arriveremo anche a 250. Niente, questa era una piccola curiosità, una cosa abbastanza simpatica che serve appunto per aumentare l'hype e l'interesse da parte dei giocatori. Bene ragazzi, detto questo, dalle 3 di stamattina saremmo tutti connessi per provare a scaricare l'applicazione. Spero che il sito non vada in tilt, ma onestamente non credo. Io di sicuro la scaricherò già da stasera e domani farò un video in cui mostrerò appunto come funziona l'applicazione, tutte le caratteristiche, le grafiche e tutto. Questi erano tutti i passi da seguire per riuscire a scaricare l'applicazione e come avete visto non è nulla di così complicato. Volevo anche farvi vedere un'anteprima di quella che sarà appunto l'open beta di Dragon Ball Super Car Game Fusion World perché da stamattina sono usciti dei video sul canale YouTube ufficiale di Dragon Ball in cui mostravano in anteprima l'applicazione. Andiamo a vedere insieme uno spezzettone del video. Ok, vediamo per la prima volta come è fatta questa versione in digitale. Abbiamo il ring, molto bello. Avevamo già intravisto qualcosa del genere, Goku e Brawly da una parte. Illustrazioni molto belle, grafiche e design molto bello. Abbiamo sei carte. Queste saranno le nostre carte, le carte della nostra mano. Potremmo scegliere se mulligare oppure tenerle. Carte in qualità molto molto alta, devo dire, perché si legano molto bene. E qua inizierà il nostro turno, diciamo. Abbiamo Life numero 8, che sarebbe il numero delle nostre carte. In basso abbiamo il numero delle nostre energie. E poi ad ogni turno decideremo cosa fare. In questo caso il nostro avversario mette in campo una carta da costo 1. E passa il turno. Noi peschiamo una carta, scegliamo una carta da mettere in energie. E dopodiché scegliamo se attaccare oppure mettere in campo un personaggio. In questo caso decidi di attaccare con 15.000. Qua vediamo la fase di attacco, molto carina, molto bella, che va a segno. Quindi il giocatore avversario prende una carta dalle vite. Noi mettiamo in campo Tensing e decidiamo di attaccare subito con 15.000. Queste sono le animazioni di quando i nostri personaggi attaccheranno. Quindi sostanzialmente vedremo solamente i nostri leader. I personaggi delle carte saranno comunque sempre delle carte. Molto standard. Qua vediamo Broly, quindi il nostro avversario che ci attacca. E noi prendiamo il colpo. Quindi andiamo a 7 vite e peschiamo una carta. Adesso il nostro avversario mette in campo un personaggio a 15.000. Decide di attaccare e di utilizzare la carta che aveva in campo come combo da aggiungere all'attacco. Infatti la carta viene scartata e il suo attacco arriva a 20.000. Adesso il personaggio ritorna a 15.000 e passa il turno. Abbiamo 6 vite, mettiamo un personaggio nell'area energie e decidiamo cosa fare. In questo caso se non sbaglio si sceglie di utilizzare Beerus, attiva il suo effetto e attacca con 20.000 di potenza. È molto molto bello perché gli effetti si attivano praticamente in automatico. Basta solo fare un click se non sbaglio per attivare gli effetti. Molto veloce come applicazione, come vedete. È molto carina anche a livello di grafica. Passiamo, andiamo un attimo più avanti per non perderci troppo e vediamo la fase Awakening. Allora qua vediamo che Broly ha 4 vite, quindi può scegliere, anzi 3 vite, può scegliere di attivare la fase risveglio. E qua vediamo che si trasforma in Broly Super Saiyan. Davvero, davvero molto bello. E così aumenta anche il suo attacco e i suoi effetti che cambiano da prima. Ok, vediamo adesso la fase risveglio di Goku. Vediamo che ha 4 vite e decide di attivarla. E qua bellissimo, bellissimo, veramente molto bello. Goku versione Super Saiyan 1 che aumenta il potere a 20.000 e decide ovviamente di attaccare con l'aggiunta di combo. Perché vediamo che il nostro Broly ha 25.000 di potenza. Quindi servirà sempre una combo. In questo caso aggiunge 2 combo, arriva a 35.000 addirittura. Effetto un super attacco che è l'onda energetica. Molto bella l'animazione. Quindi quando faremo attacchi pesanti, probabilmente, e se saremo in modalità di sveglio, avremo delle animazioni un po' più belle. Ok, questa è un'anteprima dell'applicazione. L'applicazione sembra davvero molto bella. Io onestamente non vedo l'ora di provarla. E per fortuna sarà già disponibile a partire dalle 3 del mattino. Quindi abbiamo 5 giorni a disposizione per usufruire di questa beta. Fatemi sapere nei commenti se qualcosa non vi è rimasto chiaro. Io vi risponderò immediatamente. Comunque, se entrate nel mio gruppo Telegram, troverete tutto quello che dovete sapere riguardo all'applicazione, al gioco, alle regole del gioco e tutto quello che è inerente al mondo di Dragon Ball Super Card Game. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Per questo video è tutto. E vi do appuntamento al prossimo video, dove sicuramente vi mostrerò l'applicazione di Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Ciao!